Allora, qui sta da correre un bello po'. Eh, ti conviene prendere un po' di roba che questa parte parte, io ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha la sostanza. Non è che ci spostiamo ancora, più che facciano. Eh sì, mettiamci un po' di lato. Vieni con la Gau, bravo, ce la faccio da qua? Eh non l'ho, penso di sì, spero, ma comunque penso che ce la fai, come ce la fai, mica l'erba questo. Vieni con la Gau. Segretario, ma lei è venuta a fare chiacchiere oggi? Segretario? Segretario? Lei è venuta a fare chiacchiere oggi? Il segretario è venuta a fare chiacchiere oggi, il segretario. Segretario? Segretario? Lei è venuta a fare chiacchiere oggi? Guarda, 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 è giovane, è giovane, la domanda non fumerà neanche più. No, 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 il modo è partito, siamo nella linea di pericolo. Vai che va bene, vai! Io spero di riprendere, non vedo niente. Perci la mano vicino alla... No, no, c'è stata troppa luce. No, la mano qua così che ti fai... Eh, no, no, non c'è meno stesso. Vado meglio mi ripuntandolo, eh. Che sicuramente prende qualcosa. Mi scende un po' la batteria, eh. La batteria scende un po'. No, so io. Eh, ce l'ho levato cassa. So io che lo tengo a metà. Marco, fai un passaggio basso. Eccoci. Sì. La figlia che ti fai passato. Ma fanno volare, fanno capire. No, ho fatto solo... Fanno volare. No, ho fatto solo... Io lo vedo troppo reattivo, Marco. E i gusti miei, troppo reattivi. No, guarda, guarda. No, guarda, guarda. Marco, sono avvianati tutti. Tu lo facciamo con la CL. È bello, però, di presenza, eh. Con tutte che poi lì Sirolo c'ha la sua figura. Affetto di Sivo brillante. Che affermazioni da segretario di quelli navigati, proprio. Eh, a voi. Di quelli navigati, proprio. Di quei segretari che... navigano, navigano. Ma questo è il presidente ieri. Eh, e come mai? Oggi è il compleanno della moglie. Ah. E ora sta andando a farato. Ah, deve fare le torte. Sì. Speriamo, sì, sì. Ah, per se non sa che sta bella erbaccia alta qui. Vai, eh, eh, evviva! E' 12 dollari, ma tu che fai trovato? Guarda, una cifra proprio, è blu, blu. Una cifra blu, proprio. C'è pure le ruote metallizzate. Eh, di metallo, sai, colorate al metallo. Ma quando parlate alla pressione delle gomme... No, ci siamo dimenticati. Va bello, va bello proprio. Ho sentito che hai portato un cataplasma. Eh, eh, se ti pare. Ah, 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 ah. Però ho già volato. Sì, lo so, già lo so. Io ho portato il Maxi, non lo vedi da qua? Ho portato il Maxi modello. Lì per... Eh, scendi. Eh, che ne so io. Eh, non lo so, sto motore, quanto ti consuma. Eh, boh. Eh, scendi che stai volando da un po'. Ok. Questo non è che ti perdonano, eh. La volta che è fruta, birra, questo è sotto un terra. Non posso sapere niente. Giuga! Ora a parlare, fallo fare. Segretario, non distrarre. Marco, siamo ancora a tre minuti, eh. Wow, perfetto, perfetto. Perfetto. Marco Lanno. Perfetto, bravo. Il freno naturale. Ah, 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 ah. Perfetto. Saluti, saluti, saluti. Saluti alla signora.